Muzie per la recorde A Filippo II, 1568 I moriscosi si sono ribellati, questo è vero Ma sono i cristiani vecchi che li spingono alla disperazione Con l'arroganza, i furti e l'insolenza con cui si impossessono delle loro donne Persino i sacerdoti si comportano allo stesso modo Un intero villaggio moresco si era lamentato del proprio pastore Portatelo via da qui, chiedevano i parrocchiani O altrimenti fatelo sposare Perché i nostri figli nascono tutti con i suoi occhi azzurri Hernando Ibn Hamid, il Nazareno Cristiano per i moriscos e morisco per i cristiani Una vita in fuga La menzogna per sopravvivere La passione per vivere La vita è un cammino faticoso Perché la morte è una lunga attesa La mano di Fatima Il nuovo grande romanzo di Ildefonso Falcones Già un trionfo in Spagna 500.000 copie vendute il primo mese Dal 12 novembre in tutte le librerie Il nuovo grande romanzo di Ildefonso Falcones Già un trionfo di Ildefonso